Peppa, George, forza piccoli! C'è la torta al cioccolato! Stiamo arrivando, nonna! Peppa e George adorano la torta al cioccolato, ma oggi vogliono sbrigarsi per andare a giocare con Polly. Io ho finito! Che maielini rumorosi che siete voi due! Nonna! Per favore, possiamo alzarci da tavola e andare di là a giocare con Polly? Siete proprio sicuri di avere finito tutta la torta? Potete andare! Evviva! George, prova a dire qualcosa a Polly! George è un pochino timido. Ciao, Polly! Ciao, Polly! Peppa e George si stanno davvero divertendo a giocare con Polly. Peppa Pig 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 Peppa Pig